Sono 320 e sperano di avere un giorno un contratto a tempo indeterminato. Per il momento ne hanno avuto uno che dura tre anni con Calabria Lavoro, ente in house della regione Calabria, giusto per tirare un respiro di sollievo. I lavoratori in questo modo avranno però la possibilità di partecipare al percorso di stabilizzazione alla pari degli LSU e LPU. Questo è un mondo che ha vissuto sempre all'insegna delle proroghe. Lavorare sei, otto mesi l'anno, poi qualche mese a casa. La scelta che l'amministrazione regionale su impulso dell'assessore Sarevno è stata quella di dare continuità per tre anni. Significa che nel 2015 sotto le elezioni i lavoratori non dovranno venire a pietire un'opportunità occupazionale ma avranno la certezza che per i prossimi tre anni il loro lavoro sarà un lavoro garantito. Certo, è un lavoro a tempo, è quello che oggi noi potevamo certamente offrire in questo momento però mi sembra un segnale molto forte e anche l'inserimento in questa lista, in questo elenco in cui faranno parte anche gli LSU e gli LPU consente loro di usufruire delle agevolazioni che sono in capo al mondo del precariato in generale calabrese e quindi con gli LSU e gli LPU. Mi sembra un'opportunità che offra anche lo spunto della stabilizzazione.